Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti al vero e proprio episodio finale di TheDemDemSpazioNonVivo2. Scusate ma lo scorso episodio ero convinto che avrei finito la serie e invece no, mentre registravo l'episodio stesso mi sono reso conto che c'era molto più gioco restante di quanto mi sarei aspettato. Allora, datemi mezzo secondo che ho venduto una marea di oggetti, quindi faccio una piccola follia e mi compro altri due nodi, così arriviamo direttamente a quattro. Certo, rischiamo di non poter aprire una eventuale ultima stanza segreta e tutte cose, ma chi se ne frega, volevo fare la follia e potenziare al massimo i punti ferita del nostro rig. Ok, così Isaac ti puoi far bullizzare come non ci fosse un domani e voilà, fatemi vedere la schiena di Isaac. Che spettacolo! Quello che mi fa deprimere di questa serie è che è andata decisamente molto ma molto peggio di quanto mi sarei mai aspettato. L'episodio di ieri si è fatto tipo 3000 views, è una roba assurda, vuol dire che letteralmente è stato visto da meno dello 0,3% degli iscritti. Dai, facciamo meno dello 0,4%. Arrotondiamo per eccesso. Mamma mia. Ah, buon salvino? Questo è il tratto finale del gioco che mi partirà in un sacco di porchi. Wow! E quello è un grosso marchio. Isaac, l'hai costruito tu? Oh mio Dio! È opera mia! Complimenti, eh! Dei fai le cose in grande. Le grandi opere di Isaac. Sento un po' di gente che esulta. Sì, un po' di necromorfi. Che stanno facendo? Vengono tutti per il marchio. La convergenza è alle porte. Che culo! Sapevo che ho causato problemi, ma per loro eri necessario. La tua mente era la più pura. Ho passato anni a setacciare il tuo cervello delirante. Non doveva finire in questo modo. E come sarebbe dovuta finire, Tideman? Ha tutto fatto controllo. Clark, non è colpa nostra. Eravamo così vicini a comprenderlo. No, vi siete fatti fregare alla grande. Questa è l'unica grande verità. Porca miseria. Io fuggirei. Sono tutti i corpi che hai lasciato qui. Ho notato il via alla convergenza. Ma noi non ci aspettavamo. Tutti questi corpi... Oddio mio. Eh, mi sa che ci siamo giocati Tideman. Doveva succedere, Isaac. Tu devi renderci uno. Hai rotto le palle, amore, questa storia, però, eh. Ok. Dobbiamo fermare la convergenza. Direi che è la cosa migliore da fare. Anche perché di questo passo ci schiattiamo pure noi. Casino. No, perché recupero un po' di munizioni. Anche se abbiamo letteralmente fatto scorta. Isaac, non ti si è attivato il casco? Sì, oh pilli. Ok. Come facciamo a sopravvivere là fuori? È follia allo stato puro? Uh, uh. Ci sono altre munizioni anche qui. Ah, questo macchinario ha un aspetto abbastanza minaccioso. Attivare? Attivare cosa? Attivare è come il tuo strosso. Me lo ricorda. Il macchinario attiva le parti del nostro cervello che custodiscono i codici del marchio. Ma perché sarebbe una minaccia? Di cosa avevano paura? Di me. Di noi. Che collaborassimo. Ma non stiamo collaborando. Fase 4. Già. Sei pronto? No, decisamente no. Sarà doloroso, però. Sì. Su, entra. Ma non stiamo collaborando. Isaac ti sta chiaramente infinocchiando. Infiltrazione. Oddio. Fase 2. Le viti si stringono. Tutti intorno. Lo giuro di chi io possa credere. No. 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 Ok. Ah, mettiamola così. Se per errore io sbagliassi, gente, eh. Questa scena sarà molto... Oddio, no. Isaac, date una calmata. Dicevo, questa scena sarà altamente censurata. L'unica cosa che non devi fare è muovere l'occhio, Isaac. Devi stare fermino. Andrà tutto bene. Andrà tutto male. Dove sta bella canno. Parola dello ziotelone. Isaac. Tieni fermo l'occhio. No. Appena mi avvicino. Sì, sì. Va subito in ansia. Ok, devo avvicinarmi. Con molta calma, Isaac. Con molta calma. Sto cercando di fare del mio meglio. Isaac. Isaac, fai scendere quelle palpitazioni. Stai fermo. Ci sono quasi. 0-9. Aiuto. Stai fermo. 0-6. 0-4. No. Stai fermo, Isaac. Ok. Ce l'ho fatta. Ah! 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 Sennò sarebbe finita decisamente molto male. Ah! Ah! Sto soffrendo io nella vita vera, Isaac. Stanno avendo gli attacchi epilettici, gioco. Non per dire. Ah! 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 A posto. Yay! Ora sono anche ciecato da un occhio. Proprio prima della battaglia finale. Sarà un attimino rintronato col povero Cristo. Spero che gli abbiano somministrato qualcosa. In quella siringa. Dove sei? Ti stai veramente fidando di lei, Isaac? È chiaramente il marchio. Io ti attenderò al marchio. Ma cosa devo fare? Devi distruggerlo. Devi sparargli. Devi bombardarlo. Non lo so nemmeno io. Ci sarà qualche super mega ordigno all'interno della battaglia. Se stessa. Oh, che succede? Oh, l'ho fatto io. Grazie. Molto gentile. 5% di crediti. Allora, dobbiamo anche... Come ho flying? Io devo andarmi dal suo posto. Che sta succedendo? Wow! 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 Oh no! Oh merda! Ok. Questo, questo signore è un gigantesco problemone. No! No, 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 no. Isaac corri, Isaac corri, Isaac, Isaac. A chi era? A chi era il più velocemente possibile? Quello è il necromorfo in grado di rigenerarsi completamente la vita. Oh merda! Oh cocchio! Ok, sta rigenerando Isaac. Isaac. Si sta rigenerando completamente. Ok, ci sono. Ci sono. Signore! Che piacere rincontrarla. Sentite me la fa mancata dal primo The Space. Tagli le gambine, tagli le gambine. Aspetta, ricarica la stasi, ricarica la stasi. Perfetto, perfetto. Fuori di qua. Questo ci seguirà fino alla fine del gioco? È abbastanza ovvio? No! Piccolo cieco. Aspetta che non ci siano... Nodi! Nodi energetici! Venite da papino? Ok, altre munizioni. Ehi! Sta già arrivando? Cerchiamo di fare breccia? Tu hai poco ma sicuro? Fatemi almeno salvare la partita della serie per venire. È meglio che curare. Grazie caro. Peggiore dell'ipotesi. Sei scischiato? Non devo rifarmi tipo tutto il gioco. Stiamo temporaneamente al sicuro? Ma non lo faremo molto a lungo. Si tratta di un'evacuazione non autorizzata e lei lo sa. Non provare a dirmi cosa posso o non posso fare nella mia stazione. Mio nonno dirigeva questa struttura da prima che tu iniziasi a usare i pannolini, giovanotto. Non mi serve la predica e lei sa che ho ragione. I protocolli del progetto proibiscono specificatamente l'evacuazione in caso di una violazione di sicurezza. Ho trascorso tutta la mia vita al servizio di questa comunità. Non resterò qui a guardare morire per colpa di qualche protocollo. Ora raggiungerò la tua lavetta. Potremmo continuare a discutere di queste assurdità davanti al tribunale. Ammesso di entrare... Orca miseria. Molto bene, signore. Aspetta, aspetta, facciamo lo scherzone. Dove sei, ciccio? Ciao caro, come va? Eccola vivo! Guarda, sicuramente è troppo vivo per quello che mi riguarda. Mi prese questo, grazie molto gentile. Fatemi palpeggiare un po' di armadietti. Palpeggiare armadietti. Orca miseria. Ho preso troppa roba prima di partire? Per una buona volta? Allora, c'è un corpo laggiù di uno scienziato? E quando mi metti un corpo... Di solito vuol dire che serve. Ciao, ciccio! Ok, dobbiamo scassionarlo per aprire la porta? Il terrestre dovrebbe essere aperta. Distrugilo tutto, distrugilo tutto. Vai, Isaac. Prendi tutto, prendi tutto, prendi tutto e scappa, prendi tutto e scappa. Apriti, apriti. Dov'è? No! Adesso fermo lì. Signore, non rompo i marroni adesso. Non è il momento. Non mi fermo nemmeno, non mi fermo nemmeno. Corro. Al diavolo salvataggio. Caccia la miseria. Corri, 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 corri. Oh, una riunione qua! Ah, porco cane di riunione. Qualcosa mi ha colpito? Non so cosa, ma qualcosa mi ha colpito? Ok, aia! Avete un pochettino rotto i marroni? Ah, sgattarrino mi hai seguito fin qua. Che bella cosa. La parte tua. Apri la porta! Ma che stracocchio! Pepe, 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 pepe. Dove andare qua? No, 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 mi conosce. Ecco, nodo, 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 nodo. Aspetta. Ok, siamo messi abbastanza bene. Dovrei anche avere abbastanza medici Ti scorta, aspetta Chi è che arriva? Ah, lo gioco il signore No, 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 no Non perpeggiatemi adesso Non perpeggiatemi adesso È il momento più sbagliato, signore Finché lei non è quello che si rigenera Va tutto bene Oh, oh Camisiera, sta arrivando Ah, chiunque Aspetta Aspetta la lingua in bocca Non me la metti Tutti sminti Mori, mori Isaac La stasi Porca miseria Ok, vediamo di titolare Quante più gamine possibili Se normale, vai Ok Apri la porta, apri la porta Apri la porta, apri la porta Aspetta che l'ho visto dopo Oh, miseria Tu sei quello molto rigenerante Ok, trita, 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 trita Orta Apriti Che stracocchio Mi sta venendo una big ansia No, resta giù, resta giù Sto giù, francamente Quanto ci vuoi? Aiù Non si apre la porta Oh, merda Oh, merda No, no, no Resta lì, resta lì, resta lì, resta lì Perché sono morti? Sì, aspetta, prendo un po' di vita Ascessore Ascessore Ok, aspetta No, ce l'ho detto Ok, sono dentro, sono dentro No, non sono minimamente in ansia Giuro Aspetta, usami tutto il kit medico piccolo E siamo Siamo messi ancora bene Gente, siamo messi ancora Direi molto bene È una zona sicura? Non mi sento molto sicuro Vabbè, dettagli Ok, recupera Tutto Oh, merda Ci sono un po' di cattivoni dall'altra parte Dove? Dov'è? È dietro di me, vero? No, è là davanti Aspetta Signora Ah, mi ha schivato la mina Non me l'aspettavo Ci sono arrivato un po' male Aspetta, aspetta Che pirla ci finisce Con le mie trappole Boni Adè, boni Come hanno fatto a far breccia? Ah, c'è il sistema di sicurezza laggiù Aspetta, lui è passato per i condotti Giusto? Ah, ciccio Restatemi lì Restatemi tutti fermi Restatemi Eeeh Che Eeeh Che, boni Ok, testiamo qualunque cosa si muova Ci sei visto? Ci sei visto? In vera Spero di vera Quanto cosa di per la stati Bene Ok, ho tritato qualunque cosa Ho tritato Merda Ti cavolacci tuoi te Apri la porta 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 Eh no, fermo 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 Aspetta È aperta? Ok, è aperta Zio Pili Panicume che mi sale Aspetta È già arrivato? Oh 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 E' che stracocchio Aio Ciccio Ciccio Stati fermo? Ok, lo abbiamo tritato Un attimino Volevo solo recuperare Un po' di roba buona Ok Mi pare che lui Si riprenda dalla stati Anche troppo rapidamente Apri la porta No Cattivo Ando sto Gravità zero Gravità zero Vai Ok, così non mi può raggiungere Oh Però siamo anche senza ossigeno Mi sei una ladra Grazie signorina Aspetta Questi cavoli si muovono Che troppo rapidamente Devo bloccare con la stati? Diciamo di sì Perché vorrei evitare Di essere tritato Girami Perfetto Potremmo scendere da di qui Oh miseria Cosa sto guardando Ui Ok, ok Aspetta che sto Anche finendo la stati Di sto passo Ok, sti codi si accendono Ui A intermittenza Aspetta C'è un testo di michele davanti Isaac corri Isaac Isaac non ti bloccare Eeeh Porca la miseria Vai, 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 vai Non mi interessa Non mi interessa Ma la penna è qui Ok, sono là sotto Sono là sotto Aia, aia Non ti hanno fatto nulla Isaac Va tutto bene E' morta Ancora viva la pianta Che stracocchio Vedo ancora un coso Aspetta Ok, ora dovrebbe essere morta Vai, 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 vai Ricordiamoci che non c'ho ossigeno Tipo infinito Piccolo dettaglio Vai, 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 vai Ok, c'è nulla che possiamo recuperare Gioco dice no Ah, a posto Sono rimasto un attimino ferito Soprattutto ne ho orgoglio Non mi date nulla, vero? Ok, mi dica qualcosa che non so Mi l'ha data una zona sicura in cui salvare? Non prendo come un no? Ah! Cosa miseria Ma non ti vedrò mai più Certo Ahà Ci sono condotti di reazione Isaac Non dico nulla Quindi levati delle balle il più rapidamente possibile Ando sta Oh merda Brutto Oh! Se lo vorrei io Grazie Molto gentile Tanto non ci servono altri potenziamenti Gioco Cosa mi regali di bello? Allora 3000 crediti Uè Secondo mi sono caccato Quando stai presi la porta Energia al plasmon Un kit medico piccolo Wow È la peggior stanza che io abbia mai visto Stiamo finendo un po' la stasi Però La multiraggio non l'ho nemmeno ricaricata come arma Cioè non ho comprato i suoi proiettili Intendo Ma vabbè dettagli Ok Non vedo nulla Quindi ritorniamola fuori Ho ancora 150 colpi per l'arma principale Ma potrebbero non essere sufficienti Avanziamo Buon salvino Ando sto Qua ci attacca proprio pesantemente Dai Con quante porte non me lo dici? Ok Zona sicura direi Mi sa che questo è l'ultimo Punto di salvataggio che ci darà il gioco Allora Vediamo un po' come Come gestircela figlioli Perché non lo so nemmeno io A questo punto punterei Solamente sull'acquisto di munizioni per l'energia Al plasma Ecco qua Le riempio completamente Quanto spazio abbiamo ancora Non lo so effettivamente Allora toglimi Casomai le mine Perché Probabilmente non le useremo mai Non lo so C'ho i dubbi Casomai prendimi Un po' di kit medici Grandi E a questo punto è inutile Lasciarli qua dentro Senti Siamo pieni Zeppi di medi Che non ci servono Più A questo punto Spostami anche questo Perché abbiamo 6 cosi di stasi E così possono arrivare a 9 Ottimo E come dicevo Spostami quelli grandi Senti Abbiamo di tutto Siamo praticamente indistruttibili E inarrestabili Aiee Tesoro sto cercando di arrivare Che mi interrompi In 1,8 secondi E un po' mi sarei rotto le palle Se permetti Scusa eh E fammi registrare Sto episodio finale Che tanto durerà 20 minuti E qualcosa E vi sono tutti felici e contenti Lo stiamo Oh mio dio Oh siamo alla base Sì Aspetta Ho visto cose brutte Ho visto cose tanto brutte Che mi hanno attaccato male Lo stai Ehi Ok ok Non abbiamo iniziato bene Non abbiamo decisamente iniziato bene Vari figlioli Vari Ok non è che devo proprio affrontarli tutti Posso anche levarmi dalle palle Il più rapidamente possibile Finché non arriva il Quello che si rigenera Guarda troppo presto Aspetta Aspetta Non l'ho preso Direi che decisamente non l'ho preso Isaac corri Risparmiamo munizioni Per la battaglia finale Corri 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 Aia Mi hanno sgattato male Apriti sedamo Ah sono lento Sono tanto 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 Aiutatemi a dire tanto lento Isaac Se non ti levi Non si chiude la porta Oh porco cane Siete già arrivati a romper il valle Corri Tutti quelli che abbiamo lasciato indietro Ovviamente No Può aprire le porte Non lo sapevo Aspetta No vabbè Aio Datevi una calmata Datevi una straccocchio di calmata Tutti Aprimi la porta Non posso neanche restare troppo lungo qui Curami di nuovo Curami di nuovo Via 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 No Resti lì Grazie signore No Resti lì anche lei Io fugo C'ho paura C'ho tanta paura Stanno già arrivando No 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 Conqu'è rallentati Mi stanno per sgattarrare Ok Prendimi questo Voi Buona Prendimi quest'altro Eri buono Aspetta che l'ho visto dopo L'ho visto dopo L'ho visto dopo Sta arrivando Oh po' che miseria Ok Le porte non si chiudono Le maledette porte Non si chiudono Orca miseria Aspetta Levo ti dirì Levo ti dirì Levo ti dirì Sta arrivando Ah che miseria Sgattarino No 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 Dovrei farlo Usare la stasi Caccia la miseria Eeeh Che è un incontro Di sgattaratori seriali Ok Ammazza Questo Ammazza Quest'altro Eh mancavi solo tu Ovviamente Non ho più stasi Ok Ok Ho ricuperato Andate A posto A posto Oh T'ho sentito T'ho sentito T'ho sentito Aspetta L'ho preso in testa Ah 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 Non mi ricapiterà mai più Ok Ricurami di nuovo Ah Ma hai fatto stracagare in mano Bambino di M Levati Atta 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 Poi ti fanno l'animazione Perca miseriaccia Ok ok Vai Isaac Vai Isaac Vai Isaac Ok Ripigliando tutti Troppo in fretta Noni Noni Cosa c'è qua dentro Niente 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 Vai 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 Non c'erano C'erano cose lì Ho preso un texto Non mi interessa di texto Logo Antiproiettili ho ancora 126 Miseria ladra Sono un panicume assurdo Oh abbiamo anche Posso salvare Grazie molto gentile Dio bonino Che panicume Over 9000 Dicevo abbiamo anche Quest'arma che È tipo super carica Qui Guavi in giù Tutta la struttura No no Ho cliccato E per la porta Gioco ho cliccato E per la porta Bravo Ho cliccato E per la porta Siamo ancora fuori Da pericolo Porco Canaglia Ok tagliali almeno le gambine Meglio che nulla Aspetta 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 Resta lì Hai veramente tanto rotto le palle Dove devo andare Ho aperto questa porta Io vado di qua Oh merda È un piccolo cieco Aspetta Aspetta Ruocala Ruocala così non può passare Ok ditemi che ci siamo liberati di lui Io mi sto perdendo Un po' buono cifra Aspetta Aspetta che c'è una sanza extra qua C'è qualcosa di utile Cosa sono venuto a fare qua Cosa Ma non c'è nulla Gioco Ma è una truffa Ok a meno che lui Nel capo a stare nei condotti Sta entrando nei condotti Sta entrando nei condotti Sta entrando nei maledettissimi condotti Non siamo ancora in salvo Vai Isaac Oh 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 Ho trovato la zona giusta Tesoro Sono a casa Che succede? Bastardo Ma porca miseria Wow Ti vedo un po' cotto ciccio No 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 Eh ma allora dillo che sei stronzo No Tideman Tideman hai rotto le palle Isaac Piantaglielo in faccia qualcosa Non ti lascerò rovinare tutto Mi permetto di sentire signore Ti già sto mando là Hai rotto le palle Tideman Non sei un militare Mi sono uno stupido burocrate E non ti vedo messo granché bene Tesoro Scusa eh Devo far fuori il direttore Tideman Porta potenza Oh Aveva rotto le palle E in mia difesa Mi ha tentato di ammazzare prima lui No non toglierti il casco ciccio Tanto lo sai che ti tradisce È chiaramente Una visione del marchio Lei che cocchio Isaac Non farti abbindolare così Ho ancora innamorato lui eh Grazie Isaac Adesso È ora di morire Otto guarda Bastarda chi l'avrebbe mai No Isaac Isaac togliti di lì Isaac togliti di lì Oh Sto finendo dentro la mia testa Oddio una battaglia per Confusa del mio corpo Della mia psiche Tutte cose Oh merda Tesoro ti sento un po' disturbata Io le sparerei Bravo Ok Oh miseria ladra Che casino Aspetta 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 Parla la bastarda Continua a sparare la bastarda Non farla avvicinare A me se ti palpeggiano loro Tanto sono tutti bambini Quindi ci schiattano Per se il dietro così Sono malissimo ma Non Aio Non prendiamo fuori contesto Quello che sto dicendo Aio Isaac curati Isaac curati Spara la bastarda Aspetta Ricarica 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 Me ne frega niente Me ne frega niente Parla 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 Ok Fatta E' la terza volta Che lo Lo spappoli In teoria La regola del treno Ai videogiochi Esci dalla mia testa Bastardo Wow I big attack epilettici E' fatta Dobbiamo disattivato Oh wow Ecco perché solo Noi potevamo affrontarlo E Isaac Era quello un pochettino Più lucido Come avete potuto Appurare Isaac Ehm Mo' come ce ne andiamo? Che culo E' che siamo anche Gravemente feriti Non so se avete avuto Su Rig Non era messo bene In effetti Dove sono finiti Tutti i necromorfi? Sono stati tutti Assimilati Dal primo all'ultimo No Titoli di coda No Salve Vengo dal futuro So che c'è Dead Space 3 Che non porterò per adesso Sul canale Valuteremo in futuro Visto che è stato Un grandissimo disastro Isaac Ma tirati su Porca la miseria No 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 Oh wow Che gran bastardo Era questo il piano Sbarazzarti di me Ma no Ciao tesoro Già Eccone un'altra Fondo il tetto E ti prendo Ora muovi il culo Aspetta Ellie Ellie Troppo tardi Via dalla stazione Stavolta non hai molta voce In capitolo Arrivo Oh oh Aspetta Aspetta Isaac il casco Se no ti si depressurizza tutto Cretino Oh oh Questo è culo Altrimenti non ce l'avremmo mai fatta Ok ce la faccio Ce la faccio Ok devo evitare qualunque Cosa su cui rischio di andare a sbattere Ellie Aspetta Che casino Non troppo vicino al marchio Isaac Non troppo vicino al marchio Oh 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 E che stracco Non vedo più la navetta Aspettate Ce la faccio Ci sono quasi Ellie dammi la mano Dammi la mano Sto spammando la e ciccia Ce la faccio Abbiamo fatto una perfect Senza mai morire credo Sì non siamo mai schiattati Il bordello Il bordello Non il bordello Il burdello Cos'arresti a guardare le esplosioni Oh Ci sta per investire vero Ovviamente Ovviamente Non si stanno a guardare le esplosioni Isaac Qualche sei un bambino di 8 anni Ok Sembra che la nave Abbia resistito all'impatto Nonostante tutto Yeeey Ce ne torniamo a casa Abbiamo di nuovo sconfitto il marchio Sperando ovviamente Che i terrestri Non facciano altre minchiate Visto che il governo terrestre Sembrava molto interessato Al progetto del marchio Dopo a EG7 E La luna di Eravamo su Titano Non mi ricordo come si chiamasse Sto posto Adesso ho un vuoto di memoria Ehm Ellie dove è finita? Oh no Ci siamo liberati di lei Vero? Ah Ciao Ellie Che c'è? Ah 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 Lascia stare È una pena per il culo Del finale di Dead Space 1 Lasciamo stare che è meglio Eh sì sì Ho sbloccato cose Sono un momento molto felice Vuoi sovrascrivere? Tu sovrascrivi ciccio Prototipi Tutti sbloccati Oh Sì perché nelle New Game Plus E in modalità estrema Stococchio Ti serviranno Popo Una cifra Signori Abbiamo completato Dead Space 2 Mi spiace che sta serie Sia stata un colossale Gigantesco Epico Disastro Come mai prima d'ora Lo sapevo eh Quando l'ho iniziata Per inciso Ma speravo di suscitare L'interesse Magari di qualche nostalgico Magari di qualcuno Che non ha seguito Il gioco originale Dopo che abbiamo portato La Il remake di Dead Space 1 Ok comunque è andato di merda Anche quello Ma oh ragazzi Io davvero Porto un gioco con Siren Head Che è fatto a culo 80.000 views 90.000 views Porti Dead Space piccolo Dopo loro del passato Come ho detto più volte E non se lo cacani Shun Vabbè Figlioli Per Dead Space 2 Tutto no Non porterò il tre Visto i risultati Non adesso Magari in futuro Vediamo Non lo so nemmeno io Nei commenti ovviamente Fatemi sapere Cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace O non verrete salvati All'ultimo momento E noi ci vedremo In un prossimo video Ciao ciao